Musica Stiamo distribuendo la pasta, abbiamo con noi italiani, stranieri, bello che abbiamo partecipato con noi anche a alcune persone in disagio italiane, i famosi barboni che sono qui in giro intorno al Vaticano e che si sono seduti insieme con noi e una tavolata gioca a carte, quindi direi che al di là del mangiare è bello vedere che si parla insieme e si gioca insieme. Questa giornata è condividere il pensiero, lo spirito di accogliere. Per me è più stare insieme che per me non apprezzo. Io penso che se ci guardiamo bene intorno la speranza esiste, è solo che ci facciamo travolgere da tutti questi discorsi di paura, di confini e vediamo solo quello. In realtà in Italia c'è anche tanta gente che vive bene insieme, in maniera dignitosa e danno speranza. Ciao!